Buongiorno a Maurizio Poli.it, un breve video, questo qui sulla pagina di Uomo che Cucina, ma questo è rivolto agli chef professionisti. Bonus Chef 2023, quindi si può richiedere con la firma digitale e lo speed, entro il 3 aprile, in qualche professionisti possono accedere a questo Bonus Chef per l'acquisto di macchinari di corso di aggiornamento. Quindi c'è, vi riporto poi qui l'articolo, l'agevolazione è un credito di imposta fino a un 40% delle spese emissibili. Qui c'è il dettaglio dell'agevolazione, è rivolto a chef professionisti, l'attività per le spese sostenute dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2022, quindi dagli strumenti attrezzatori professionali, aggiornamento professionale, come dicevo, corsi specialistici, eccetera, quindi munizio di firma digitale e speed e andare a chiedere questo Bonus come Chef. Alla prossima!